L'art in progress è l'artistica di Martellai Bureau, ma è anche parte della storia di Manifattura progetto di Impatto Teatro. Per questo motivo siamo qui nella ex-tobacco di Cagliari, San Manifattura, per lavorare sull'istituzione e le persone che vivono e lavorano qui. E siamo concentrati sulla comunità, non solo sul passato, ma anche sulla comunità del presente, e abbiamo cercato di immaginare la comunità del futuro. Abbiamo lavorato anche su una forma multidisciplinaria, quindi abbiamo cercato di mixare tutte le disipline per creare un'unica, contemporanea. Il soggetto dell'art in progress è la comunità, e credo che era molto interessante perché potremmo spiegare noi, che avevamo bisogno di creare una comunità con altri artisti in solo due giorni per creare qualcosa che avevamo bisogno di creare un'unica, che avevamo bisogno di creare un'unica, con le limitazioni di materiale, limitazioni di knowledge, e come le persone che lavorano qui un'unica prima, avevamo bisogno di creare un'unica per lavorare l'unica. Quindi è stata un'esperienza della comunità che abbiamo parlato di un'unica. Io credo che la comunità è molto importante, è una delle cose più importanti, ma è necessario qualcosa di creare. Può essere arte, può essere un'unica, può essere un'unica, può essere un'unica storia, può essere un'unica storia. Questo progetto è stato molto speciale, perché avevamo bisogno di un'unica storia, e abbiamo bisogno di fare qualcosa per mantenere la vita. Ma questa comunità è molto importante, e ha fatto una grande impressione di me. Quindi, grazie! Grazie! Per me, questo show e questo weekend, è stato 100% di comunità, la comunità di donne e di uomini, e anche la nostra comunità. È bello di sapere i nomi, i fatti, e cercare di creare questo spazio, e cercare di immaginare come è stato, cercare di tributare, ma anche cercare di creare una comunità tra noi, che era molto forte con gli studenti, e il gruppo che non conoscevamo per tanto tempo. E in Florida, credo che abbiamo creato qualcosa di unico. che era molto importante. Sì, dal momento in cui siamo arrivati, e ho parlato anche per me, e ho sentito l'energia di una grande famiglia in queste palle, la storia, l'energia. È stato un piacere di essere parte di questa presidenza artistica, e anche di questo show. è stato incredibile lavorare con gli studenti, e anche di creare qualcosa con altre art. E, alla fine, credo che lo stanno più con me, era la parte di essere una famiglia, e creare qualcosa insieme. Quindi, in questa esperienza, e in questa residenza art, possiamo sentire due comunità existenti. e la comunità di Factorio, che ha existito per molti anni, e che ancora resta, con l'energia in questo spazio, e anche con le persone che stanno lavorando qui. E, anche, abbiamo la comunità di artisti, di studenti, che possiamo tutti lavorare insieme, e chiedere le due grandi comunità. e mi piacerebbe, e mi piacerebbe, di fare qualcosa di questo, e di condividere con tutti, per avere la stessa propria. Quando mi arrivò in questo spazio di Factorio Tobacco, l'energia del spazio è molto piacente, e mi ha inspirato a creare. Credo che questo dice molto la storia del spazio. che lavoravano qui, sono come una famiglia, sono entrata in questo spazio. E' da questo spazio. E' da questo spazio, sono vicini, e supporti l'altro. Credo che questo è molto importante per una persona, che senti come parte della comunità. Si senti accettato, si puoi essere te stesso, e ti rendi felice. Per me, la comunità, e questa esperienza, mi ha aiutato più, è una sensazione di sicurezza. Especialmente, con gli artisti, è stato molto sicuro per discutere idee, come up con idee, pensare idee, e essere là, e essere aiutato per tutti. e essere aiutato per tutti. grazie. Grazie. Grazie.